queste indiscrezioni che ci dai grazie mi raccomando la grinta ciao Antonio ci sono di noi porterà quel che può portare la grinta la porterà Matteo Renzi vabbè vabbè ha svelato i suoi segreti Ugo da Roma ciao Ugo ciao a tutti e due allora mi sembri felicemente sposato molto felicemente sposato diciamo che con mia moglie festeggiamo tutti i mesi due volte al mese uno il finanziamento che è il 18 di ogni mese e siamo arrivati il 18 di novembre a 155 e il 5 di ogni mese invece il matrimonio e siamo arrivati a 65 65 anni? mesi scusa mi sai un po' rimbambito sposato a 17 anni io tentavo lo scoop scusa però c'è una domanda che si impone 65 mesi ma quanti anni sono? è felice anche lei? sì diciamo che in questo momento si sta preparando perché dobbiamo uscire mi sta ridendo ah uscita cosa? festeggiate un'altra cosa? no no questa sera ci vediamo con i compagni delle con i miei compagni delle medie con i compagni delle medie? beh sei un uomo di una fedeltà assoluta fedele ai compagni delle medie fedele alla moglie quindi ti facciamo complimenti e sono fedele anche a Radio Capital fedele anche a Radio Capital allora una sera ci porterai tutti a cena per festeggiare ma io veramente Vittorio devo dire una cosa l'anno scorso io vado a venire a cena in un posto a luglio te l'aveva detto forse Andrea Lucatello e mi sono sentito negare in diretta l'invito da chi? penso che hai capito a cosa mi riferisco no no non ho capito la festa dell'unità di Roma ma sai noi politicamente non possiamo mica schierare lo so lo so anche se un po' di salsicce un po' di cose salsiccette vabbè senti Ugo ma è fantastico quindi aspetta quindi il 18 e il scusami il giorno 18 il giorno il 18 dicembre è l'anniversario quindi tra più di un mese facciamo 166 mesi il 18 dicembre il 18 novembre è 165 come festeggiate? se non vorrei sapere entrare nella vostra intimità come festeggiate? ma normalmente generalmente una cenetta una cenetta tra noi due una cenetta tra due a casa e chi cucina? chi cucina? no no andiamo a cena fuori nessuno cucina ecco la felicità il segreto della felicità va bene Ugo ciao Ugo grazie un abbraccio fatemi salutare fatemi salutare il gruppo Facebook ascoltatori di Radio Capital che vi segue sempre va bene a tutti ciao ciao Steffi oramai abbiamo 2 milioni e mezzo quanti sono di like su di follower su? no mi sembra 2 miliardi e mezzo no 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 sì allora 2 miliardi e 100 forse no come le piazze adesso dei comizi si aggiunge sempre uno zero in fondo allora